Oggi abbiamo visto come Commissione Cultura una grande storia d'amore, questa città si regge sulle storie d'amore e noi abbiamo l'onere di raccontarle, di custodirle. Il Museo di Napoli Collezione Bonelli è il grande amore di un privato che ha raccolto la più grande collezione al mondo di opere dedicate al tema di una singola città. Cosa ci chiede Bonelli? Ci chiede di dare una dignità maggiore a un luogo che avrebbe bisogno di spazi più grandi e soprattutto di far conoscere ai circuiti sia cittadini che turistici questo grande patrimonio. Un lavoro di ricerca collezionistica trentennale che fa conoscere aspetti inediti o famosi della vita quotidiana della città di Napoli, con cimeni, documenti, curiosità e oggetti che parlano della cultura e della civiltà partenopea. Nella sede della casa dello scugnizzo di Mater Dei l'archivio Bonelli raccoglie oltre 10.000 oggetti, locandine teatrali, statuine sacre, abiti, fotografie, giochi, cartoline ed ognuno racconta la sua storia. L'impegno che abbiamo preso è quello di conoscere innanzitutto e di divulgare ma insieme ai commissari faremo un'istruttoria col sindaco e con il gruppo cultura proprio per cercare innanzitutto una dignità logistica a questo grande spazio e poi di mettere insieme tutte le sinergie possibili affinché scolaresche, circuiti turistici, enti possano effettivamente fare proprio questo patrimonio visitandolo e portandolo alla conoscenza di quanti lo possono far rivivere ogni giorno attraverso il racconto di visita, il racconto di testimonianza.